Siano notati Gesù e Maria, letture meravigliose, quelle di questo giorno, che potremmo, diciamo così, collocare dentro un celebre aforisma di Gesù, tanto celebre quanto, ahimè, poco osservato, specialmente da noi e suoi discepoli. Gesù nel Vangelo di San Luca, al capitolo VI, ha sentenziato, questo ve lo chiamati aforismi, apoditticamente, in maniera netta, non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati. Queste due letture, per quanto possano sembrare eterogenee, si accumulano da un fatto. Susanna era stata, adesso vedremo brevemente l'antefatto, ho optato per la versione breve per non appesantire troppo la celebrazione perché l'antefatto si può riassumere in due parole, come vedremo, ma Susanna era stata ingiustamente accusata di adulterio oppure essendo innocente, giudicata e sulla base delle testimonianze false, bugiardati da Daniele di due vecchi, sembrava che fosse adultera. Invece la donna del Vangelo adultera c'era veramente perché era stata sorpresa in fragranza, ma non deve essere condannata. Cosa era successo a Susanna? Questi due anziani, che poi Daniele sente come dovrebbe farsi con ogni testimone, questo non c'è bisogno di avere la laurea in giurisprudenza per cambiare queste cose, i sentimenti vanno ascoltati separatamente, non insieme, si erano invaghiti di questa donna mentre stava facendo il bagno. Mi avevano minacciato, hanno detto guarda c'è delle nostre lusinghe, oppure noi che siamo così influenti in Israele diremo che ti abbiamo vista con uno e che hai commesso a brutterio e sarai uccisa. Questo è l'antefatto. C'erano insomma 40 versetti biblici da leggere prima. Questo è l'antefatto. Che succede? Daniele va in aiuto di questa donna che dice no no, io il mio onore non lo perdo. Volete fare questo? Dio mi aiuterà. Ecco perché abbiamo letto lo splendido salmo responsoriale del Signore dal mio pastore. Non manco di nulla, se dovessi camminare in una valle oscura non temerei alcun male perché tu sei con me. Invece nel Vangelo la donna era colpevole e Gesù quando sono venuti a dirgli senti un po' che facciamo? Perché era vero che Mosè nell'Antico Testamento quando ancora c'era la legge del rigore perché la rivelazione è progressiva. Ecco c'è molta gente che si scandalizza di tante cose dell'Antico Testamento. Io non voglio fare in questa sede pubblicità ma ho appena da poco terminato di scrivere un po' di articoletti chiesti da una rivista cattolica proprio sulla Sagra Strittura. Gli articoli sono sul mio blog, sono anche diventato un ebook che si chiama l'ignoranza delle scritture e l'ignoranza di Cristo, che sono fondamentalmente una presentazione della Sagra Strittura e poi di quello che la Dei Verbum, bellissima Costituzione del Concilio Vaticano II, ci ha detto sulla Sagra Strittura, tra cui che la rivelazione è progressiva, cioè il nostro Signore non ha potuto fare e dire tutto, ha avuto certamente nell'Antico Testamento un rigore che nel Nuovo non c'è più perché? Perché per quei tempi era necessario, per come era rozzo, come dire, ancora allo stato prato l'uomo di 4.000 anni fa, no? Ecco, poi con Gesù certe cose sono state superate dalla legge della Nuova Alleanza. Ecco, quindi Mosè aveva detto di rapitarle, mica se l'era avventata il Signore, ma Gesù cosa sta dicendo? Dicevo, vogliamo rapitarla. Cosa stava scrivendo con il dito per terra, questo lo dicono insinissimi commentatori, stava scrivendo con il dito per terra i peccati degli astanti, ladro, mormoratore, fornicatore, impuro, attaccato ai soldi, chi più ne ha più ne metta, vestemmiatore, volgare, eccetera, eccetera, proprio per indurre quelle persone a comprendere. E siccome non capivano e continuavano ad insistere, diceva, va bene, non l'avete capito, ora ve lo dico io. Se qualcuno non ha commesso alcun peccato, si accomodi. Voi capite quale grande insegnamento ci viene dato a noi? Ed ecco perché Gesù è stato così categorico, non giudicate e non condannate. Perché sono due cose che può fare solo Dio. Perché solo Dio conosce la verità, non soltanto di come sono andate le cose. E potremmo anche arrivarci, potrebbe darsi che in qualche circostanza i testimoni sono veri, d'accordo? Per cui non dicono il falso. Quindi quello che magari attestano è anche vero, ma noi non possiamo sapere mai quello che c'è dentro un cuore, quello che c'è dentro una coscienza. Quanto una persona era giustificabile, comprensibile, quante circostanze attenuanti aveva, che noi non possiamo conoscere. Magari addirittura pensava di fare bene, facendo in realtà male, per una cattiva formazione di coscienza, cattiva educazione ricevuta. Quindi giudicare mai. Condannare nemmeno, perché per condannare dovremmo essere impeccabili. Forse non abbiamo fatto la stessa cosa di qualcuno contro noi ci, come dire, fulminiamo, ci avventiamo come falchi a condannare, ma ne abbiamo fatte altre. O no? E allora? Buono. Io penso che questo, io vedo insomma delle volte, cioè, penso, voi state seguendo la diretta dal mio canale Facebook, ogni tanto gli amministratori mi mandano, come dire, comunicazioni, commenti antipapali, antiepiscopali o cose di questo genere. Mi addoloro, dicendo, quanto stiamo lontani da non giudicate e non condannate, se ci permettiamo addirittura, insomma, di giudicare e di condannare così in alto, no? Ecco, queste sono cose importanti, sono insegnamenti evangelici fondamentali. Dal nostro cuore e dal nostro parlare chiediamo in questa Santa Messa al Signore per l'intercessione di Maria scompaiano giudizi e condanne. Noi fino a quando è possibile scusiamo e giustifichiamo e anche quando vediamo qualcuno colpevole non condanniamo, ma invochiamo clemenza e perdono. Dio saprà come, dove e quando giudicare ed eventualmente condannare chi questo merita. Noi no. Ed è bene per essere in linea con quello che Gesù vuole insegna, a stenerci dal farlo. Siano lodati Gesù e Maria.